salve merdoni bentornati sul canale dell'impero del cinema come va tutto a posto io bene ma non benissimo in realtà ieri non sono stato particolarmente bene oggi molto meglio ma mi sento ancora un po sbattuto ho delle occhiaie che faccio spavento sembro un tossico dipendente ma visto che me la sono presa di riposo per recuperare visto che fuori piove ho pensato perché no di fare due chiacchiere riguardo la totale assenza di contenuti riguardo il cinema d'attualità su questo canale negli ultimi due mesi l'ultimo video che ho pubblicato a riguardo è stato quello di crimes of the future e volevo spiegarvi semplicemente il perché di questo la motivazione principale sta nella vita che negli ultimi due mesi ha assorbito il mio tempo le mie energie e anche parte della mia pazienza e non solo della mia ma che finalmente ha visto la luce in fondo al tunnel e quindi da ora in poi dovrebbe essere teoricamente tutto in discesa sotto quell'aspetto e mi sento molto più leggero in secundis la restante parte di tempo libero che ho al di là dei rapporti umani e dei miei doveri è stata praticamente monopolizzata dal progetto cram show che sta andando ancora avanti il capitolo 2 è stato pubblicato un mesetto fa circa e stiamo lavorando al capitolo 3 che è a buonissimo punto siamo a circa l'85 90 per cento e siamo ancora in fase di riprese mancano da girare le ultime due scene però per quanto riguarda tutto il resto fatto finora il materiale già montato nella stragrande maggioranza dei suoi elementi manca ancora una parte del doppiaggio ma so queste sono minuzie che arrivano poi successivamente siamo presi da questo totalmente ed ecco perché non sto riuscendo a portare contenuti a tema d'attualità cinematografica non sto riuscendo proprio a trovarci tempo perché poi è tutto un conciliare cose e non voler sacrificarle per mettersi a fare video tutto lì questo canale non è mai voluto essere un canale di attualità cinematografica questo canale è sempre stato e resterà sempre un canale dove un cinefilo butta dentro tutto ciò di cui ha voglia di parlare quando ha voglia di parlarne fine questo è l'impero del cinema niente più nemmeno però questo mi porta anche ad essere molto discontinuo e questo è sempre stato normale per me perfettamente normale siamo perfettamente consci del fatto che il progetto cram show potrebbe durare molto rispetto a quello che magari possiamo pensare adesso e che quindi non voglio lasciar morire il canale sotto quell'aspetto appena uscirà avatar the way of water sicuramente ne parlerò sicuramente troverò il modo di parlarne senza doverci dedicare 10 ore per il video sicuramente ma nei prossimi periodi sarò molto più assente proprio per questa ragione perché stiamo lavorando a qualcosa che mi sta dando una soddisfazione infinitamente superiore a quella che mi dà fare un video come li ho sempre fatti perché è qualcosa di completamente mio di completamente nostro è inutile che vi dica che il feedback che mi è arrivato nei commenti nei messaggi privati soprattutto nei messaggi privati più che nei commenti paradossalmente per cram show capitolo 2 mi ha riempito di felicità estrema è così è stato bellissimo ma per molti aspetti in realtà non soltanto perché il prodotto vi è effettivamente piaciuto ma anche perché coloro che hanno notato elementi all'interno del corto che non gli sono piaciuti molto o affatto non si sono risparmiati nel dirmelo e questa cosa per me è un traguardo è un traguardo bellissimo perché vi ho sempre spronati a farlo un creatore di contenuti non ricerca la pacca sulla spalla ricerca la sincerità sempre e quando arriva e non solo arriva ma ecco adiuvata anche da l'attenzione a ciò che invece è stato gradito e questo è è la completezza è la completezza del feedback che torna indietro e che nonostante ripeto mi aspettassi tranquillamente che non avrebbe ripetuto i numeri del capitolo 1 che in realtà non erano aspettati minimamente quando l'ho pubblicato pensavo l'avrebbero visto in tre gatti in croce e l'hanno visto in tre gatti in croce il primo capitolo è stato visto da 608 persone ma rispetto alle aspettative che avevo e rispetto ai numeri del mio canale quelli sono numeri da non lo so da Godzilla vs Kong capite quindi per me era completamente inaspettato e mi immaginavo che il secondo non avrebbe ripetuto quei numeri è comunque bello per me vedere questa storia questi personaggi queste immagini uscire dal mio computer è veramente bello è qualcosa di surreale ma veramente bello e non vedo l'ora di proporvi il capitolo 3 di portarvelo qui perché per adesso forse se non scazziamo nulla nella fase finale potrebbe essere il migliore dei tre e spero di riuscire a finire il racconto con il capitolo 4 perché quello è l'obiettivo abbiamo intenzione di arrivare fino a un quarto capitolo quindi capite sono talmente preso da tutte queste cose che non riesco a pensare a video a tema cinematografico nonostante ripeto abbia delle idee anche fighe ma non voglio svalorizzarle non voglio dedicargli tempo quando non ho la testa tutto lì e questo è quanto ragazzi un bacione a tutti ci vediamo presto e alla prossima